caro imprenditore ti do il benvenuto in questo nuovo video dedicato alle pillole di efficacia fiscale dove condivido con te le soluzioni che propongo ai miei clienti imprenditori che hanno un srl o che ne vogliono costituire una nuova oppure in cui condivido tutte le domande che mi fanno i miei clienti che reputo interessante condividere con te ecco che oggi voglio condividere una domanda che effettivamente presuppone delle cose da capire dietro per quanto riguarda il carico contributivo inps ok e la domanda è un qualcosa di questo genere qua cosa cambia tra l'inps commercianti e l'inps gestione separata ti dico questo perché è tendenzialmente noi imprenditori con un srl possiamo avere due tipologie di contributi da un lato abbiamo l'inps commercianti e dall'altro lato abbiamo l'inps della gestione separata e quindi dobbiamo essenzialmente capire tendenzialmente gli importi come queste cose si attivano bene e cerco di rendere il video più breve possibile in modo da darti delle chicche interessanti ricordati che quando tu hai un srl se sei socio operativo dovrai pagare l'inps commercianti bene quindi l'inps commercianti si paga solo se tu sei da una parte socio e sei un socio operativo se sei solo socio ma non fai nulla di operativo tu non paghi l'inps commercianti e l'inps commercianti e quella tipologia di inps che è personale che paghiamo noi imprenditori e si paga prima di tutto a rate fisse diciamo trimestrali ok e poi solo nel momento in cui alla fine dell'anno io ho un reddito a me attribuibile come socio in base alle quote che è superiore a una certa soglia definito reddito minimale inps ecco che solo su quella soglia superiore io pago un ulteriore 24 e più percentuale ok quindi questo è l'inps commercianti ed è una cosa che è pagata personalmente dal socio di tasca sua appunto perché è un socio operativo prima a rate fisse e poi nel caso alla fine dell'anno l'anno dopo in sede di dichiarazione dei redditi se questo suo diciamo reddito a lui attribuibile è superiore a una certa soglia che tendenzialmente ogni anno cambia bene dall'altro lato cos'è che abbiamo abbiamo l'inps della gestione separata l'inps della gestione separata è praticamente l'inps che colpisce l'amministratore ossia tutte le volte in cui iniziamo amministratori e con un compenso noi su quella busta paga dell'amministratore paghiamo proprio l'inps della gestione separata che comunque volendo è un terzo carico dell'amministratore quindi è presente all'interno del cedolino dell'amministratore e due terzi è carico della società e quindi non lo vedrai sulla busta paga dell'amministratore però lo vedrai alla fine dell'anno nel bilancio perché vedrai che effettivamente appesantisce diciamo i costi quindi ricordati che la gestione separata è una cosa che non paghi tu direttamente che paga in un certo senso la società ok e di fatto è una cosa che transita solo all'interno della busta paga però ricordati che la gestione separata si attiva solo quando tu hai un compenso praticamente da amministratore se tu fossi amministratore con un compenso pare zero tu ovviamente non paghi l'inps della gestione separata bene quindi in sostanza per chiudere l'argomento di oggi l'inps commercianti solo se sei socio e solo se lavori bene dall'altro lato devi pagare l'inps della gestione diciamo separata che però non è che paghi te come individuo ma paga la tua società in sostanza solo se sei un amministratore e se due hai un compenso bene detto questo ricordati che ci sono tanti strumenti per ridurre non solo le imposte ma anche il carico contributivo al meglio utilizzando la tua srl e puoi scoprire tutti questi strumenti in maniera completamente gratuita andando sul sito www.efficaciafiscale.com e scaricare un manuale gratuito con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che ti permettono di ridurre le imposte contributi grazie alla tua srl detto questo ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata ciao